Intervistato da Selvaggia Lucarelli per Libero, racconta che Belen Rodriguez non ha preso molto bene la copertina del settimanale Chi, di cui è direttore, che testimoniava la crisi matrimoniale con Stefano De Martino. Signorini racconta che la showgirl gli ha telefonato risentita. Ora per esempio ho fatto arrabbiare Belen per la copertina sulla rottura tra lei e Stefano. Mi ha chiamato arrabbiata, mi ha spiegato che lei e Stefano avevano voglia di mancarsi perché tra figlio e matrimonio hanno saltato la fase del fidanzamento. Che poi io dico, per mancarti vai al Bulgari. Beati loro che possono permettersi il lusso di mancarsi soggiornando in uno degli hotel più chic di Milano.